Dopo settimane e settimane di silenzio anche l'ex difensore del Milan Alessandro Billi Costa Curta ha deciso di parlare del figlio. Al momento lui e la moglie, Martina Colombari, sono in vacanza in montagna. Tra una scalata e un momento di relax con i piedi al fresco dei ruscelli i due stanno cercando di rilassare. Non hanno passato momenti semplici e anche quest'estate è stata costellata da periodi negativi legati a loro. Non hanno passato momenti semplici e anche quest'estate è stata costellata da periodi negativi legati a loro. Immancabile però una riflessione sul figlio. Immancabile però una riflessione sul figlio. La puntata andrà in onda il 19 agosto alle 21 su Sky TG24 e alle 24 su Sky Sport Calcio, ma sono disponibili delle anti. Mio figlio è molto ammirato dalla mia pazienza. Mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E gli ho veramente tenuto compagnia, non potrà mai dire che non sono stato presente, ha raccontato l'ex calciatore ampliando poi la riflessione a tutti quei ragazzi che non riescono a trovare. E gli ho veramente tenuto compagnia, non potrà mai dire che non sono stato presente, ha raccontato l'ex calciatore ampliando poi la riflessione. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo. Parlando di Martina ha rivelato, c'era una fila, ma io sono stato sempre bravo nell'anticipo, ha ricordato. A quel tempo faceva le sfilate e chiamai direttamente Giorgio Armani per avere un posto in prima fila. Dopo la sfilata c'era un after party allora mi feci invitare anche lì, la corteggiai a quella festa e da lì nacque tutto. Così la conquistata e il re è Alessandro Billi Costacurta il protagonista della nuova puntata di Cancelletto Stories, in onda lunedì 19 agosto alle 21,00 su Chiocciola Skit24. È Alessandro Billi Costacurta il protagonista della nuova puntata di Cancelletto Stories, in onda lunedì 19 agosto alle 21,00.